E' la più grande operazione di evacuazione mai realizzata. I numeri danno ragione alla sindaca di Battipaia Cecilia Francese che stamani con queste parole ha definito l'intervento che fermerà la sua città Battipaia nella giornata di domenica per rendere innocuo l'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Il 73% della popolazione della cittadina della Piana del Sele dovrà lasciare le proprie abitazioni e come rende nota al primo cittadino di Battipaia verranno utilizzati alcuni istituti scolastici. Abbiamo creato un perimetro di un chilometro e sei che chiameremo zona rossa, dovranno lasciare le proprie abitazioni. Chi non sa dove andare abbiamo previsto l'istituto Ferrari che è l'istituto alberghiero dove ci darà la possibilità anche grazie alle cucine di fare dei pasti caldi per queste persone. Se riempiamo l'istituto Ferrari che può accogliere 2.500 persone, abbiamo preparato l'istituto Vellella e poi ci sarà il Sandro Penna dove metteremo 100 letti con materassi e con un presidio medico e paramedico tutti gli effetti proprio per l'assistenza di persone che sono allettate, persone che sono con sacca. Insomma un dispiego di forze non indifferenti. Questa organizzazione ovviamente non lascia dall'oggi al domani, ci stiamo lavorando da mesi, ci stiamo lavorando da mesi a tavoli convocati qui in prefettura e non so se l'ho detto ma lo ripeto perché è veramente stato fondamentale il ruolo della dottoressa Bevilacqua in tutto ciò. In questo tavolo si è seduto il comune, si è seduto la protezione civile regionale e nazionale, l'esercito, il ventunesimo battaglione di Caserta, l'esercito, si è seduto l'ANAS, si è seduto la provincia, insomma tutti coloro coinvolti in questa grande operazione e ovviamente l'Enel. Segnaliamo questo annuncio ieri che ci è arrivato che è apparso sul sito della prefettura, segnalato la prefettura ma è l'Enel, essendo la prima grossa evacuazione che si fa e anche loro non hanno detto che tagliavano la corrente per 1200 metri dicendo che forse si poteva allungare a 1300 ma sempre nella zona rossa, ieri ci annunciano che forse a macchia delle zone che non rientrano nella zona rossa potrebbero essere escluse perché loro non lo sanno fin quando domani perché certe linee periferiche sono collegate alle cabine del centro quindi saranno pronti con dei gruppi elettrogeni per garantire strutture come banco strutture di accoglienza. Quindi veramente è una cosa che noi speriamo che passi presto e che passi nel migliore dei modi perché oramai gli uffici sia nostri ma sia della prefettura siamo tutti in denti per questa grande operazione. Operazione così vasta che viene fuori perché nel 2015 sono cambiate le regole e le leggi quindi l'Europa imbone questo tipo di evacuazione ma ovviamente le condizioni dove loro fanno le prove sono diverse dalle condizioni nostre per cui fanno scoppiare sta bomba e si vede che cosa? Che l'onda d'urto arriva a 1,6 km, che le schegge arrivano a 1,6 km ma ovviamente noi abbiamo una serie di palazzi per cui comunque noi ci dobbiamo adeguare a quelle che sono norme che non le impone il Comune. Io voglio dire per chi ci ascolta e per chi pensa che è una disposizione del Sindaco noi stiamo eseguendo degli ordini che vengono praticamente dall'alto ma dall'Europa stessa dalle normative che la prefettura deve garantire che tutto funzioni bene e che si rispettino le regole.